Il tuo tempo di fondo non ti soddisfa? Vorresti essere operativo e pescare una profondità maggiore? Capire come allenare mente e corpo per fare il salto di qualità? Sono passato per tutti questi stadi e molti altri negli anni, imparando dai miei stessi errori, partendo da zero e arrivando ai massimi livelli prima nella pnea pura e poi nella pesca subacquea. Sono passato dall'essere frustrato del mio rendimento, sperimentando su me stesso, perfezionando tecniche e protocolli, fino a insegnare a professionisti ed altri atleti ai massimi livelli di questa disciplina. Ricorda che imparare a rilassarti, ventilare nella maniera corretta e visualizzare è il 70% del successo di un tuffo. Per gestire un tuffo profondo di pesca subacquea, serve un protocollo mentale oltre al top della forma fisica. In queste lezioni ti insegnerò a rilassarti prima di un tuffo, a ventilare correttamente, a abbandonare le errate abitudini. Scoprirai come le tue prestazioni aumenteranno in modo naturale, per darti sicurezza in quello che fai. Ti insegnerò a gestire un tuffo dal momento in cui ti ventili, alla discesa, l'azione di caccia sul fondo, il momento in cui staccarti, la risalita e soprattutto l'uscita sicura. Imparerai a pianificare un allenamento invernale finalizzato alla pesca in apnea per essere al top della forma nel momento che ti serve di più. Ti insegnerò come perfezionare il tuo assetto costante, a scendere invariabile e molte altre astuzze imparate nelle gare. Puoi allenare tutto, dalla mente al corpo, il diaframma, il metodo e la tecnica. Non c'è momento storico migliore che questo per vivere la tua passione al massimo ma in sicurezza. Le prede sono sempre più profonde e smaliziate. Serve ad essere attivo mentalmente, al top nei riflessi e con un'apnea che ti permetta di fare la tua azione di pesca e uscire in sicurezza. In questa Masterclass svelerò come arrivare ad essere al massimo della propria forma fisica e mentale, tutto ciò che ho imparato negli ultimi 25 anni di questa attività. Sono Giacomo De Mola e questa è la mia Masterclass.